Mentre prosegue la protesta dei trattori, al Ministero dell'Agricoltura si è tenuto un incontro tra il sottosegretario Almasaf, Patrizio Lapietra e sei rappresentanti del movimento riscatto agricolo. È stato un incontro positivo, ha dichiarato Andrea Papa, uno dei portavoce. È il momento di fare un cambio di passo sulla politica agricola comunitaria, semplificando l'erogazione degli aiuti, scongiurando tagli finanziari e dicendo basta la vergogna degli aiuti per non produrre, ha fermato Lapietra. Nelle prossime settimane il governo aprirà un confronto con le regioni e le organizzazioni agricole per individuare le filiere cui destinare i primi interventi di sostegno. Il gastolo per Giovanni Padovani, 28enne che il 23 agosto del 2022 uccise a Bologna l'ex fidanzata, Alessandra Matteuzzi, 56 anni sotto case di lei. Lo ha stabilito la Corte d'Assise di Bologna, preseduta dal giudice Domenico Pasquariello, dopo due ore di camera di consiglio. Matteuzzi venne uccisa a calci pugni martellate e infine colpita con una panchina. Confermate per l'ex calciatore le aggravanti dello stalking, del vincolo, del legame affettivo, dei motivi a bietti e della premeditazione, come chiesto dalla procura. In aula anche il sindaco Matteo Lepore. Sono anche loro due fanatici religiosi, complici di Giovanni Barreca, autore della strage familiare di Altavilla Milicia, Palermo. Si tratta di una coppia, Sabrina Fina e Massimo Carandente, fermati dai carabinieri domenica sera. I due avrebbero conosciuto Barreca durante incontri di preghiera in una chiesa evangelica. Come per il muratore 54enne, reo confesso dei delitti della moglie e dei due figli di 5 e 16 anni, le accuse sono d'omicidio plurimo e soppressione di cadavere. Sarebbero stati i due che vivono a Palermo a istigarlo a uccidere i familiari per liberare la casa da presenze demoniache e poi a partecipare materialmente ai delitti. Israele nega l'ingresso nel paese a Francesca Albanese, inviata dal Consiglio dei Diritti Umani dell'ONU. La decisione, hanno fatto sapere i ministeri degli esteri e degli interni, è legata alle sue oltraggiosi affermazioni che le vittime del massacro del 7 ottobre non sono state uccise per la loro ebraicità ma in risposta all'oppressione israeliana. Intanto la situazione dei civili palestinesi a Rafa preoccupa il Regno Unito e il ministro degli esteri Cameron alza i toni nei confronti di Tel Aviv. Israele si fermi, occorre subito una tregua, dichiara. Anche dagli Stati Uniti si levano voci critiche. Il commissario per i diritti fondamentali in Ungheria ha rassicurato l'Italia sulla presa in carico del caso Dilaria Salis, l'insegnante lombarda di 39 anni, a processo in Ungheria per il presunto pestaggio di un militante neonazista. L'ufficializzazione è arrivata su sollecitazione dello stesso garante, che nei giorni scorsi aveva scritto all'autority ungherese a proposito delle condizioni di detenzione di Dilaria Salis, chiedendo di monitorare con attenzione la sua situazione presente e futura. Il governo sta studiando una norma in base alla quale chi occupa, se non dimostra di non essere coinvolto nei fatti, risponda civilmente dei danni che sono stati cagionati. L'ho annunciato ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. Chi occupa chi compie un atto illecito deve rispondere dei danni, perché, dice, studenti di questo tipo non possano essere promossi all'anno successivo. Valditara ha visitato liceo Severi Correnti di Milano dopo un'occupazione che ha portato a danni per circa 70.000 euro. Un nuovo format di ristorazione a due passi dal pontile di Ostia. E' Alt Stazione del Gusto, un modello unico nel suo genere, nato dalla collaborazione tra EniLive e Accademia Nicoromito. Permette di gustare cibo di qualità in un'atmosfera informale, come la storica stazione di servizio in Piazzale della Posta. Giovanni Maffei, responsabile commerciale e marketing di EniLive. Accompagniamo gli italiani in mobilità da oltre 70 anni e oggi per primi abbiamo capito l'importanza di trasformare le stazioni, mettendo il cliente al centro, dandogli quella opportunità di usufruire di servizi di alta qualità per soddisfare le sue esigenze in mobilità. Alta è il fiore all'occhiello di questa grande trasformazione, riteniamo che il food sia centrale tra quelli che sono i servizi basilari per le persone in mobilità. Il primo che è stato aperto è Viale America, questa è la seconda apertura. Nei prossimi mesi apriremo ulteriori alt su Roma, Corso Francia, Circo Valazione Trionfale, Aurelia, per poi seguire nelle altre città italiane e non escludendo, entro fine anno, di scendere anche su alcune location europee, con particolare riferimento a progetti che stiamo vedendo su Berlino, Monaco e Vienna. Alt propone un menù che si declina dalla colazione alla cena, con un'offerta gastronomica da gustare al tavolo, ideata dallo chef Nico Romito. Spesso si pensa che fare grandi numeri non vuol dire fare qualità, ma invece la sfida è proprio questa, è dove sta andando la mia ricerca. Quindi partendo dall'alta ristorazione, dal mio ristorante, dai laboratori che ho, riuscire a creare dei prodotti che dialogano con la strada, accessibili. Quindi altro è un'offerta pop, un'offerta semplice, un'offerta per tutti, ma la voglia era quella di attualizzare un modello pop, ma attualizzarlo non solo dal punto di vista proprio del palato, ma anche dal punto di vista della qualità intrinseca. Amici Trevi Meteo, bentornate a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì, che vedrà un aumento della pressione atmosferica sul Mediterraneo centro-occidentale, quindi anche meno male sull'Italia, le nostre regioni meridionali sentono ancora l'influenza della coda della perturbazione giunta nello scorso weekend. Infatti se controlliamo la nuvolosità prevista sull'Italia, vediamo qualche nuvola insisterà ancora nelle regioni meridionali, mentre nel resto del paese, come vedete, non mancano ampie schiarite. Precipitazioni, qualche goccia di pioggia sarà ancora possibile nelle regioni meridionali, si tratta di acquazioni piovaschi di breve durata, alternati anche a delle belle aperture, però ripeto, al sud ancora un pochino di variabilità. Quindi in definitiva, martedì all'insegna del sole al centro-nord, magari al mattino un po' di variabilità sul medio adriatico. Anche sulle isole maggiori non mancheranno ampie aperture, un po' di variabilità in più, dicevamo, nelle regioni meridionali, peninsulari, ma alla fine del giorno migliora definitivamente anche lì. Temperature in tutta Italia sopra la norma come valori diurni, tocchiamo i 15-16 gradi. Ma per tutti i dettagli sulle vostre località, aggiornato, scaricate la nuova app di Trevi Meteo.